C'è anche il gelese Walter Miciche tra i convocati dalla Federazione Ginnastica d'Italia in qualità di docente per lo stage di formazione per tecnici nazionali per l'ottenimento della qualifica di esperto nelle attività di base e formazione giovanile che si svolgerà dal 2 al 5 gennaio prossimi a Castellammare di Stabbia. Inoltre Miciche svolgerà il ruolo di collaboratore presso il Gym Campus Invernale. Ancora una volta dico grazie alla Federazione Nazionale di Ginnastica perché mi ha convocato al Gym Camp nazionale. Il Gym Camp verrà fatto a Castellammare a Napoli, avrò in quell'occasione una duplice veste, una come collaboratore dello staff perché ci saranno 40 ginnasti che dovremo allenare e l'altra parte è quella che vengo convocato come docente per quanto riguarda lo stage numero 3 e 4 con l'obiettivo della formazione tecnica di tecnici nazionali. Questo ovviamente mi dà il piacere di poter lavorare a grandi livelli con grandi soddisfazioni e soprattutto volevo dire grazie alla Direttrice Nazionale Emilia Napolini che mi ha permesso ancora una volta di fare questa esperienza.